Ehi ragazzi siamo tornati finalmente, smettila devi venire qua a parlare anche tu, vieni, cosa stai dietro a ballare? Allora dobbiamo spiegare quello che è successo, sono morti i microfoni, molto semplicemente già nelle registrazioni che abbiamo fatto iniziavamo a sentire qualche problemino perché i video tendevano a gracchiare, soprattutto quello di Steph che non vogliamo dire che è lui che ha una brutta voce, giusto? Giusto? Cosa stai facendo? Tendevano appunto, io non ce la faccio a continuare così, smettila Domicane va? E dicevamo avevano iniziato a gracchiare nelle registrazioni poi della settimana dopo che sarebbe questa settimana in cui i video sono saltati sono peggiorate, abbiamo provato a registrare ma l'audio stava diventando sempre più pessimo, non siamo riusciti a risolverlo in nessun modo e quindi abbiamo dovuto comprare dei microfoni nuovi, li vedete? Sono questi qua, ovviamente sono due, solo che noi li possiamo mettere vicini perché sono molto sensibili e quindi tendono a rimbombare davvero tanto quando parliamo, infatti vedete Steph che sta dando spettacolo con il cane non vuoi dire nulla? Non vuoi dire nulla? Vuoi fare giusto la comparsa? Ah niente è proprio muto, non dici nulla dammi il cane, la stai terrorizzando, ha una faccia terribile, Nami? Nami? Cosa ti sta facendo? Povero cane! Quindi, allora abbiamo parlato fin troppo, cos'altro c'è da dire? Questa settimana riprenderanno i video regolarmente cercheremo di far uscire anche i video più complicati che avevamo già detto che sarebbero usciti la scorsa settimana ce l'ho fatta a dirlo e quindi cercheremo di far uscire The Sims e anche lo speciale di GTA, giusto? Giusto? Non sto dimenticando niente Sergio annuisce anche se non lo vedete e quindi niente, riprenderemo a fare video e avrete di nuovo la nostra compagnia ogni giorno No